Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe VAI NEL TRININO! Ragazzi sono triste Meno, dove sei Meno? Sono qua Sei in mezzo agli alberelli No, non ce la faccio più In punizione Sei in punizione in mezzo agli alberelli Ma mezzarna santa che punizione di merda Non è partita la registrazione Quindi tutte le cose che avevamo fatto Che ha fatto Ila, poverina Non le abbiamo viste spacchettare Ragazzi, cinque giorni Qua un pochino per fare tutto Non è colpo di Blade Oddio E vabbè basta E le orecchie se ne vanno Vabbè ragazzi abbiamo fatto un po' di cose Nel senso che qui dentro c'è tutte queste cose fatte Abbiamo preso tutte le liquori Pasta, fine stop Non abbiamo trovato niente di importante nei pacchetti Però andiamo avanti Forza dai Ne pacchetti Ne borsette Ne borsine Ne spacchettamenti Perché si vedono? Perché si vedono i fili? Insomma che si fa? Dobbiamo andare avanti con le quelle Buongazzo! Oddio Esatto, quali queste? O andiamo avanti con quella delle api O facciamo la La slime rosa La facciamo le api tutte insieme Ma le api? Vai le api tutte insieme Però ecco allora Io avevo trovato E c'è in un video perché l'ho registrato Tutte le cose No le hai ritrovate te? Sì nella borsetta E dove sono andata a finire? Non lo so Sono scomparicciute No davvero Non sono nemmeno lì dentro Con le innanzi di Zeus Sono scomparicciute un paio di cose No dai Ah vuol dire che sono nelle altre isole? No non credo Vabbè siccome avevo fatto io le api E siccome avevo fatto un paio di accoppiamenti Perché me le sono dovute fare un culo enorme per le api Che le do io perché sono gentili Ah innanzitutto guardate ragazzi Sbam Ma com'è bello Ma com'è bella la torre mina e mina Bellissimo Uh 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 Allora andiamo sulle nuvole Infatti mentre Blazer va a prendere le api Che è saltata io Noi saliamo tutta la torre La faccio a piedi La faccio a piedi Sono più veloce io Sono più veloce io di tutti Siete volete a fare Che hai fatto? No piede spento È normale perché sennò esplode tutto Comunque dicevo arriviamo fin lassù e prendiamo le nuvole Perché una quest ci dice di prendere Quanto? 100 nuvole 100 nuvole No Grazie Ale Ok siamo arrivati Guardate come siamo alti Guardate Oh c'è anche la casa di Sono morto Di Blazer Dark Mamma mia come è brutta Mamma mia Che schifo Vabbè noi l'estetica ce la diamo proprio sui denti Eh esatto Ok scaviamo No 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 Siete qua sopra che non ho le cose Tipatemi sotto Please Anche io voglio essere tippata No Io sono rimasta giù Ti ho spiato in gola E Dark è caduto Qualcuno l'ha ammazzato E chi è stato Nananana 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 Ti parli dove Dove Mino ha le Alle Sugarfane Che è la le Le mie cose Sono tutte la patente Eh Hai spaccato le mie canne? Esatto Bravo eh bravo Eh ha fatto bene non devi fumare Non devi fumare le canne Non devi fumare le canne Hai ragione Vi racconto la storia di me e Ila Ero tronista a uomini e donne E non ti ho visto come mai C'era Dark che mi stava infamando E poi è arrivata ad un certo punto una persona dal pubblico Che era Ila Non la conosceva ancora Che ha detto Ma chi sei? Ma vat in Vat in E Dark ha fatto Wow 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 Ma è troppo di ban Vat in ban Ahahah E li si sono presi E dopo Abbiamo fatto conoscenza Perche me lo aveva difeso Ilaria E quindi ci sono innamorate E' tutto grazie a Dark No dai ragazzi Ragazzi C'è stato il relax C'è il periodo Io Yla e Dark Si siamo mesi d'accordo E allora Yla noi abbiamo.. Botti Vi dico solo Vi dico solo Una foto Piccolo Non era mica piccolo Piccolo C'è Ila che tieni un braccio a meno. E io ho detto, porca caccia la mia. La metti in video. Non dovrebbe essere, al contrario. La metti in video. La faccio vedere in un vlog se questo video arriva almeno a 20 like. Subito, faccio 20 account, vai. Faccio 20 account. Il primo lo chiamo Lorenzo 1, Lorenzo 2, Lorenzo Deppino a Lorenzo 20. E poi ti chiamo a casa Google e ti fanno, ma è proprio ti bagno. E ti fai anche nuve. Oddio. Ma insomma nessuno... Mamma mia, mamma mia. L'avete vista l'aria che stava cadendo? L'avete vista, l'avete vista, eh? Non aveva abilitato il jetpack e quindi ha fatto eeeh e stava andando giù. Comunque io sono a 64. No, io sono a 64. Dai, ne mancano altri 40, no, 32. Spaccate uno numero. Spaccate uno numero. Ma siete lenti, siete proprio da bagno. Oh, ma cosa vuoi? Ah, è vero, mai c'ho il flux, ma davvero? No, ma va lento lo stesso. Voi ragione, lo dico troppe volte, siete proprio da bagno. Bravi, lavorate schiavi, io vi controllo. Eeeh, anch'io anch'io dai. Vai, schiavo, Alan, muoiti. Spacca, spacca. Allora, ci siamo. Dai, Dark. Quedi, dopo le nuvole, cosa bisogna fare? Cos'è meno mi preparo mentalmente? Psicologicamente. Psicologicamente parlando, eh? Ho sbagliato bottoncino. Ok, non hai risposto a me, domani. E dobbiamo fare le api, non lo so, qualsiasi cosa. Issi, e c'è. Ma le api, blaze, ce l'hai? Cioè, te? Eh sì, ce l'hai da prendere. Va bene. Ehi, voglio fare le quersi. Vediamo un po'. Dov'è quella del... Eh, sempre nel punto 6. Punto 6. Punto 6. E in basso, sopra la stonna. Grazie a te. Cento, piacento, presa. Fatto. Cosa ci dà? Cosa ci dà? Nulla. Una borsettina. Immaginate, li trovano le api. Eh, io spero, perché per ora queste borsettine hanno fatto niente. Bottigliette di vetro. Hanno fatto proprio niente. Che sonno. Ok, ci siamo, siamo giù. Cosa ho trovato? Una bottigliette di vetro. Che belle le bottigliette di vetro, proprio belle. Bellissime. Siamo a 74. Ma te i cuori le... Cos'è? Nice reward. 0,5% Blackout Cortense Corse d'Earth E' una merda. E' Division Sicil. Traduzione... Il Division Sicil. Allora, aspetta perché... Innanzitutto ragazzi, guardate che bella la nostra casina. Il nostro nido d'amore. Guardate bene. Quelli qui... No, va schifo. Ma se ci dormiamo... Ma se ci dormiamo gli Ale qua, cosa dici? Ah, è vero, scusa. E' il nostro, non il tuo. Allora, metterlo tutto dentro. Mettiamo tutto dentro. Perfetto. Ma l'autospunnel devo farlo qui? Eh, si. O facciamo... Oddio. Fate l'autospunnel. L'autospunnel. Questi si uccidono. E che se ne frega. L'autospunnel cosa devo vedere? Dov'è qui? Dov'è? 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 Quello. Perciò un per cento. Laser drill. Yes. Ok, andiamo a prendere le api. Voliamo vola con quanto... No, no, ti rischiare a toccare le mie api. Qua sono le api. Apri con l'apio. Yei, 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 yei. Ok, siamo qua. Davanti. Oh, basta. Che casino. Non ti fottere tutte le api che mi serve. No, no, ora vado solo indietro a vedere cosa ci serve. Il bees and trees. Ci serve il... Il grano, quindi. Allora, bisogna fare artificial hive e seed oil can. Allora, per andare avanti con le api ci serve... Oh, chi è che scrive? Ci serve lo squeezer. Eccolo qua. E lo sturdy casing. Ok. Si può fare? Non si può fare, attenzione. Eh, no, ci manca quello che... Il bronzo. Si fa questo, si mette le... E poi si fa questo. Eccolo qua. Vedete ragazzi, ho imparato anche a usare l'ME. Incredibile. Incredibile. Ma vero. Allora, andiamo nella zona in cui... Ciao Mino, ciao Mino. Vado bella questa torre. Dove faremo le api. Oh, qualche giorno scomparirà. Ovvero qui. Grazie a qualcuno. Le api si faranno qua. Allora, tutte queste cose vanno collegate ovviamente a dei... Dei cavi, no? Mino, Mino, tu lo sai che tutta sta zona ora la devi cambiare tutta in erpa, vero? Si, la cambieremo. Tanto, tanto, si, si, l'ho fatta qua. Allora, ok, squeezer, eccolo qua. Ok, ci vuole il can. Il can, torniamo di là. Le can si fanno semplicemente poi per fare il seed oil, basta che mi metti dei seed qualsiasi e lui te le squeeza. Perfetto. Volevo dire, Mino, questa è la mia, diciamo, è un attimo così tanto per lei, assolutamente. Sono andata a riguardare i vecchi video, sia tuoi che i miei e lei. E mi ricordo la bellissima serie del tipo Quake, Craft, i minigame. E mi è venuto un attimo un po' di nostalgia. Eh, è normale. Esattamente, quella nostalgia. Tornerà anche, magari. Eh, tipo, ora appena finisci sto video ci vanno a fare i minigame giusto, bravo, Mino. Si sa che si va a casa dopo che abbiamo visto questo video. Ok, spam. Ecco fatto. Ce l'hai messo le carote? No, ci ho messo il pan. Ah, no, il pane ci serve. Come ci serve? Ma ce n'è un bordello. Ma ci serve per fare i panini cotti. Ah, io stavo mangiando. No, Mino. Mino che distrugge la quest. Ma cosa fa? No, ma guardami. Che cosa mi conviene? Ma va? E mi, io la guardo, ti fai l'autocraft e fai prima. Che sta facendo? Non bisogna mettere l'oil can qui? No. No, no, qua, qua, qua. Mi sta facendo, Mino, si sta facendo il seed oil. Ok. Tanto lentamente. Ah, l'ho capita ora che per fare il seed oil, devi mettere seed lì che poi... Eh, non lo capisco. Ah. 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 Noi, capi? Ah beh ragazzi, mentre noi aspettiamo, mi arrivano anche un message come per te, viene a magnà perché è ora, ci vediamo in un prossimo episodio da Minoila, Dark, che non lo vedo più, vabbè, esploso. È esploso. Blaze e Ale. Passate dai loro canali Perché tanto prima o poi metteranno qualcosa Sì, sì, ce l'hai, prima o poi metterai qualcosa N'è vero Tu le devi fare i video, Ale, perché tu le devi fare un bravo N'è vero Ale, tu devi fare i video tutti napoletano stretto Fai la Napoli Craft E fai Hai capito? Fai tutorial napoletano Di Michael Quindi ragazzi, insomma Ci vediamo nel prossimo episodio Allo studio Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao